Ripristinare al Morelli tutte le attività esistenti prima della sua conversione in ospedale Covid. Le rassicurazioni dei mesi scorsi non sono state mantenute, così ci vediamo costretti a rinnovare la richiesta. E' questo il senso della lettera inviata ai vertici di Regione Lombardia e a SST Valtellina e Altolario dai sindaci dei sei comuni dell'Alta Valle, Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva, Valdidentro e Livigno e sottoscritta anche dai primi cittadini di Albaredo per San Marco, Ardenno, Buglio in Monte, San Giacomo Filippo e Piantedo. Una nota dai toni duri indirizzata per conoscenza anche al Ministero della Salute in cui si definiscono scellerate e arbitrarie le scelte dei recenti e prossimi investimenti sul presidio di Sondalo che creerebbero il rischio di generare promiscuità all'interno degli stessi padiglioni tra i reparti destinati alla gestione dei pazienti Covid e le altre attività ordinarie compromettendo definitivamente la possibilità di ripristino in piena efficienza dell'ospedale dell'Alta Valle. I sindaci chiedono che si intraprendano azioni di responsabilità e ispezioni sulla situazione denunciata che, scrivono, ha creato enormi disservizi. Al Morelli devono tornare le alte specialità e il Dipartimento di Emergenza con tutte le funzioni. Pertanto, concludono i sindaci, diffidiamo qualsiasi azione che, oltre a concretizzarsi come una malversazione di importanti contributi pubblici, comprometta irrimediabilmente la funzionalità di presidi esistenti come sta succedendo a Sondalo. Le conseguenze della mancanza di servizi al presidio di Sondalo sono ormai insostenibili, afferma il sindaco Ilaria Peraldini, vista anche la difficoltà del pronto soccorso di Sondrio ad assorbire tutte le richieste provenienti da tutto il territorio provinciale. Si confida in una visita in valle del viceministro alla salute Sileri, di recente incontrato a Roma. Il nostro fronte si allarga, fa intendere Peraldini, riferentosi all'adesione alla lettera di cinque colleghi della Bassavalle e al sollecito inviato alla Regione due giorni fa, a firma di dieci dei dodici primi cittadini del tiranese, per il ripristino dei servizi sanitari al Morelli e le garanzie sull'unità spinale.